test mini cat con lipo grafen panther primo test con grafen lipo panther o e 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 Alla prossima! ciao amici al prossimo test mini cat bimotore da marzamemi gruppo extrem rcmodel pachino carmelo di saluta